Russo di Cicciano per mettersi in mostra e per arrivare alla finale nazionale di La Spezia. Riscoprire la professione del barman è l'impegno dell'Ipsa Russo di Cicciano e dell'IBM Project che hanno organizzato un concorso per giovani barman che si è svolto in mattinata presso la sede di Comiziano. Momento di confronto per i tanti studenti che hanno dovuto la possibilità di misurarsi con la loro fantasia e l'estro nel creare cocktail fantasiosi cercando di superare la selezione fino ad arrivare alla finale nazionale di La Spezia. I finalisti sono stati 22, 16 delle classi terze e 6 delle classi seconde. Questa è già la terza edizione che noi collaboriamo con l'alberghiero di Comiziano e grazie anche agli insegnanti, il professor Dasco e i suoi colleghi. Il nostro obiettivo è far conoscere un aspetto poco noto, quello del barman all'interno degli istituti alberghieri. Di solito chi si iscrive all'alberghiero sceglie per cuscina, magari anche spinto a tutti questi programmi tipo Masterchef, eccetera. In realtà noi vogliamo promuovere l'attività e il valore del barman. Quindi ogni anno organizziamo una gara interna in vari istituti alberghieri che poi verranno a fare la finale nazionale alla Spezia. Il concorso si svolge in una maniera molto semplice. Estraggono un cocktail e lo devono fare facendo meno errori possibili. Quindi verranno premiati non soltanto la memoria e la bravura, ma verranno premiati anche la fortuna o comunque meno emozione possibile. Quindi non è un concorso facile. Per questo dobbiamo ringraziare in modo particolare il gruppo dirigente di questa scuola che ormai è diventato una pietra emiliare nel mondo dell'avviamento ai ragazzi nel mondo del lavoro. Ringraziamo in modo particolare il preside che arriverà a momenti, impegnati in altra sede per altri tipi di problema. L'entusiasmo che vediamo in questi ragazzi che stamattina stanno qua è alle stelle. Emozionatissimi perché concorrere significa confrontarsi, avere senso di responsabilità, avere senso di interesse per la materia e quindi dovranno dimostrare nel campo le loro professionalità. I professori stanno qui con una pazienza enorme perché mantenere una platea di 1200 alunni e fare una selezione per scegliere i ragazzi che dovranno concorrere poi a livello nazionale non è un fatto semplice e quindi a loro va un ringraziamento affettuoso da parte di tutti noi ma soprattutto dai genitori che in massa stanno qui questa mattina ad assistere le performance di questi ragazzi. Il nostro è solo semplicemente un augurio in bocca al lupo sapendo che questi ragazzi con la loro professionalità domani nel mondo del lavoro porteranno alto il nome di Carmine Russo, istituto alberghiero di Cicciano. I ragazzi sono tutti entusiasti di questa manifestazione. Come diceva lei alla terza edizione, le posso garantire che per noi è stato difficilissimo individuare i 22 partecipanti perché veramente sono tutti meritevoli e bravi. Voglio fare un imbocco al lupo a tutti e che venga il migliore. Con questo servizio è tutto, il telegiornale termina qui. Grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti, qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it 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 www.tufanoarredamenti.it